Maurizio De Giovanni non presenterà il suo ultimo libro a Salerno. Lo scrittore napoletano, dopo la lite social avuta con i tifosi Granata, ha scelto di annullare l'evento che si sarebbe dovuto svolgere giovedì 21 aprile nel Palazzo della Provincia. Una scelta annunciata sui social e che l'autore del commissario Ricciardi ha confermato a 696 TV. Anche a livello istituzionale nessuno prende le distanze da questa gente. Invece minaccia, continua a dire in maniera piuttosto becera di non volermi vedere a Salerno, quindi siccome io non vado nei posti in cui non sono gradito da tutti, ho pensato che fosse necessario fare a meno di incontrare i miei tantissimi lettori. Ad innescare la discussione era stato proprio lo scrittore partenopeo, che aveva criticato fermamente i cori antinapoli intonati nel corso della partita Roma-Salernitana. Io ho detto soltanto che chi fa quei cori contro Napoli e il popolo napoletano, augurandosi catastrovi naturali, epidemie eccetera eccetera, è uno stupido, è ottuso ed è imbecille. Il polverone sollevatosi nei giorni successivi ha spinto De Giovanni ad annullare l'evento di Salerno, ma in tanti, sempre attraverso i social, lo hanno invitato a ripensarci. Lo strappo per il momento non sembra essere ricucibile, ma lo scrittore ha voluto comunque rivolgere un messaggio distensivo ai salernitani. E' profondamente autolesionista questa divisione. Se ci separiamo facciamo il gioco di chi ci vuole separati. E questo credo che sia veramente un autolesionismo molto sottile.